Le ultime ore di una storia d'amore scritto dall'enigmatico Henry Peake Un vero trionfo letterario Madlen Peake, veniamo alla domanda che tutti si sono ampiamente posti è sicura che sia stato suo marito a scrivere il romanzo? Si sta prendendo gioco di lui! Ma ve lo immaginate il pizzaiolo Bretton che si mette a scrivere un libro così bello? Davvero ce lo vedi papà a scrivere questo tra una pizza e l'altra? Non so chi sia stato a scriverlo ma io lo troverò Chi si crede di essere? Ha un bel coraggio a venire qui! Perché Henry Peake? Perché questa messa in scena? Ho bisogno di lei per risolvere l'indagine sarà un po' il mio dottor Watson E perché è lei Sherlock Holmes? Perché è la mia indagine! Se riuscissimo a trovare una sua lettera una cartolina Ho un sacco di sue lettere me le ricordavo scritte meglio neanche la lista della spesa di Proust sarà un granchino Hanno trovato la lista della spesa di Proust ed è un capolavoro Guardi qui! Henry Peake si è portato il segreto nella tomba lo accetti La smetta di importunare mia figlia? No, la smetta lei di minacciarmi con quella sua vanga? No, è una zappa Ho perso quasi tutto per quel manoscritto Lei sta sconvolgendo le nostre vite È questo libro che le sta sconvolgendo Lei non crede, Giusefine? Quindi sa dove abita? Eh sì E allora dove abita? Abita nell'ultima casa all'altezza Dove? Dove? L'ultima? Infermiera? Abbiamo un problema Dove? Grazie a tutti.